amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi vi presentiamo una macchina che dire il vero non c'è mai capitata ed è la prima una macchina molto interessante infatti la stiamo guardando con attenzione perché è una macchina che difficilmente se ne trovano in giro questa è una toyota supra 3000 di cilindrata la particolarità di questa macchina qua che tra l'altro non sapevo nemmeno io e mi sono documentato prima di fare delle 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 figure barbine che questa questa vettura qua è un progetto fatto congiuntamente con la bmw una cosa veramente strana quindi toyota e bmw hanno fatto un progetto congiunto basandosi sul telaio della z4 in sostanza quindi hanno utilizzato un po come il il progetto che è stato fatto con la fia 124 spider la mazza mx 5 tanto per fare un parallelismo attinente in questo caso è stato preso il telaio della bmw z4 ultima versione ovviamente ed è stato modificato dalla divisione moto sport della toyota che si chiama gazzu racing quindi divisione moto sport ha preso il telaio e ci ha costruito poi attorno quello che è motore carrozzerie e quant'altro un'altra particolarità di questa macchina che viene assemblata cioè nella toyota è giapponese la bmw è tedesca la macchina viene assemblata dalla questa ditta che si chiama steyr che faceva le steyr puck ai tempi che è in austria quindi una roba veramente un progetto che più variegato di così si muore venendo nello specifico di questa macchina come dicevo un 3000 biturbo da 340 cavalli con trazione posteriore poi hanno fatto recentemente anche la versione 2000 turbo quattro cilindri questo invece un sei cilindri perché ovviamente la versione più più alta di gamma ha un sei cilindri in linea e può essere abbinata o con un cambio automatico otto rapporti di ultima generazione o con un manuale a sei rapporti quindi questo grosso modo è la descrizione di questa vettura andando a leggere un po' le una vettura come dicevo non conoscevo nel dettaglio nemmeno io leggendo un po' le varie opinioni su questa macchina nonostante che visivamente stavo guardando il disco sull'impianto frenante davanti a un impianto frenante che è veramente imponente se non ho fatto la misura ma un disco di questo genere sicuramente sorpassa i 320 mm sarà un disco da 340 a 350 una cosa del genere nonostante quello una delle critiche che gli viene fatta questa macchina è proprio sull'impianto frenante perché apparentemente a vederlo così sembra un impianto frenante sovradimensionato però appunto per un utilizzo un pochino sportivo tanti criticano il fatto che dopo un pochino va in affaticamento e probabilmente sarebbe stato più opportuno mettere magari un impianto brembo questo è un impianto adesso qui bisogna capire esattamente marchiato Toyota ma non è chiaramente brembo e quindi un impianto brembo avrebbe dato sicuramente delle risultati sicuramente diversi però al di là di questa critica che abbiamo riscontrato un po' sui vari forum sulle varie caratteristiche della macchina per il resto direi che è una macchina molto molto interessante anche da un punto di vista se vogliamo di design fa veramente la sua scena cioè rispetto a una Z4 direi che è molto molto più cattiva si vede che la diciamo il dna è quello soprattutto nella linea diciamo laterale si vede che ha dei richiami sulla Z4 però sia anteriormente che posteriormente è tutta un'altra è tutta un'altra cosa venendo nello specifico su quello che c'è chiesto di fare il cliente qua abbiamo siamo intervenuti con la linea di scarico quindi montando una linea di scarico Akrapovic con centrale diretto e terminale silenziato comandato dalle valvole che già sul come dire sullo scarico originale ci sono quindi il fatto di avere le valvole consente di silenziare o meno a seconda delle esigenze la rumorosità ed è sicuramente la direi la soluzione ottimale serve per avere una maggiore rumorosità che appunto sia in linea con quelle che sono le caratteristiche della macchina cioè già di serie appunto aprendo la valvola un filino più di rumore lo faceva ovviamente come ho spiegato tante volte andando a mettere un terminale di dimensioni più piccole e andando a eliminare in questo caso un silenziatore centrale anche se le linee sono due ovviamente la rumorosità rispetto a prima cresce ulteriormente quindi sia valvola chiusa che a valvola aperta la differenza c'è ed è consistente è ovvio che a valvola aperta avendo sempre un terminale diciamo pseudo omologato non andiamo mai oltre determinati decibel sappiamo che la limite di legge sono i 74 decibel diciamo che andiamo leggermente sopra ma non è che abbiamo una macchina direi iper fracassona come se questa parte qua fosse un tutto tubo se noi questa questo silenziatore lo andassimo a modificare facendo un tutto tubo un 3.000 di cilindrata 6 cilindri farebbe un fracasso veramente infernale quindi questo sicuramente è necessario proprio per garantire una rumorosità che sia accettabile anche se leggermente superiore a quelle che sono i limiti legge poi se uno vuole rimanere limiti legge chiude la valvola a questo punto la silenziosità si abbassa e rimane sotto i 74 decibel io direi che per altre cose su questa macchina è tutto se ci abbiamo preso in carico ripeto e come ho accennato all'inizio abbiamo ecco una cosa che potremmo far sentire è la rumorosità adesso Mirko la tira giù dal ponte e vi facciamo sentire il sound perché effettivamente descrivervelo senza farvelo sentire è una pecca ecco come avete sentito il rumore come avevo promesso è più che consistente quegli scoppietti che voi avete sentito in rilascio sono dovuti proprio una contropressione che dall'esterno rientra all'interno a parte il fatto che siamo molto vicini al muro per cui è anche più facile creare una contropressione di questo genere però al di là di questo questi scoppietti qua sono creati in maniera naturale non artificiale e su questo magari apro un inciso perché tante volte ci chiedono di agire sulle sulle vetture per creare proprio questo tipo di effetto che in gergo si chiama pop and bang questi scoppietti che vengono fatti allora come ho spiegato altre volte approfitto di questo di questo video per spiegare appunto che cosa fare in maniera logica e che cosa viceversa non fare in maniera in logica cioè il discorso del pop and bang va benissimo se uno cambia lo scarico decomprime entro certi limiti in rilascio l'aria dall'esterno rientra all'interno e si creano questi scoppietti che però rimangono nella parte finale dello scarico quindi non creano nessun tipo di problematica sono solo degli scoppietti interni e lo scarico non viene rovinato l'alternativa che tanti fanno e io sconsiglio vivamente anche perché ultimamente abbiamo avuto anche recentemente alcuni clienti che sono venuti da noi con problematiche sulle sedi valvole e sul catalizzatore in questo caso dovuti a una creazione di questo sistema tramite centena elettronica in questo caso cosa succede come si fa si vanno a variare gli anticipi a livello elettronico la macchina non ha più gli anticipi corretti vengono fatte delle false accensioni all'interno dello scarico e questo a breve medio termine crea per forza dei delle problematiche una volta come come una volta quando venivano appunto iniettati con l'iniettore il diciamo la benzina all'interno dello scarico venivano fatte queste esplosioni che in alcuni casi facevano proprio detonare lo scarico lo scarico proprio si apriva a banana in questo caso non sono diciamo delle esplosioni così forti ma comunque creano problemi sicuramente al catalizzatore e alle sedi valvole tant'è vero che appunto due o tre giorni fa è arrivato un cliente adesso non mi ricordo con che macchina che aveva si era fatto fare da un ben noto centro di elaborazioni non tanto lontano da noi questo discorso del pop e mac dicendo guarda sicuramente va benissimo non preoccuparti è arrivato da noi abbiamo dato un'occhiata al catalizzatore e il catalizzatore all'interno l'anima del catalizzatore si era staccata e si era rotta quindi benissimo il fatto di avere i suoni scoppiti non li chiamiamo le preparazioni da bar però se questo deve poi creare delle problematiche che vanno bene al di là della soddisfazione di avere gli scoppiti io fossi nel cliente metterei la macchina così com'è non andrei a spendere una barcata di soldi per mettere il catalizzatore nuovo e vivrei tranquillo e sereno queste cose qua secondo me un preparatore serio dovrebbe quantomeno dirlo al cliente poi se il cliente accetta di eventualmente di avere queste problematiche almeno uno si è cautelato l'ha detto poi se succedono sono problemi del cliente ma da un punto di vista professionale secondo me è dovuto una cosa del genere chiudo l'inciso per cui anche per oggi per questa toyota supra direi che abbiamo detto tutto mi raccomando cliccate sulla campanella iscrivetevi al canale per aiutarci a sostenerlo e soprattutto date un'occhiata al sito www.nomenegire.it all'interno troverete l'archivio di elaborazione con più di 3600 schede vettura per qualunque altra informazione chiamatemi in sede del lunedì o venerdì o sono sempre lì a disposizione di tutti per il momento un saluto arrivederci all'interno Grazie a tutti.